vi presentiamo oggi un cucciolotto simpaticissimo lui è merlino due mesi e mezzo un amore simpatico questo piccolino è stato abbandonato quando era veramente piccolino per la strada con altre due sorelle molto diverse da lui esteticamente una associazione che si occupa di antincendio ha trovato questi piccoli li ha raccolti e li ha portati in un posto al sicuro un posto di fortuna però chiedendo immediatamente al comune di prenderli portarli in canile ma siccome al momento questo discorso aginosa non funziona il comune ha chiamato noi noi associazione che non ha canile non ha un posto autorizzato diciamo dove tenere gli animali però si dà una mano come si può non li abbiamo presi subito perché come sapete noi facciamo sempre andare via prima quelli che ci sono almeno una parte e soprattutto facciamo molta attenzione al discorso dei vaccini non mischiamo i cuccioli appena arrivati con quelli che stanno ancora ultimando il piano vaccinale quindi abbiamo detto di attendere un attimino delle volontarie di ginosa marina si sono recate a dare un'occhiata ai cuccioli prima che noi li prendessimo e così insomma così è stato eccolo qui il piccolo merlino l'abbiamo messo in terra così vi facciamo vedere quanto è vivace e simpatico lui si intromette sempre in tutto quello che facciamo con gli altri cuccioli prima abbiamo filmato altri cuccioli qui presenti nel recinto ma lui no voleva stare al centro dell'attenzione come a dire riprendete me perché voglio essere adottato per primo se cercate un cucciolo vivace simpatico affettuoso monello che va a insultare i cuccioli che dormono lui è così merlino la sua taglia sembrerebbe una media piena ecco perché adesso soltanto due mesi e mezzo adesso è piccolo ma naturalmente ha tanto tempo per crescere vi facciamo vedere le sorelline di merlino mago questa femminuccia nera al momento non ve la presentiamo come cucciola in cerca di casa perché avrebbe una richiesta vediamo come va il preaffido altrimenti faremo un video su di lei ma dovrebbe se tutto va bene andare in famiglia per ora vi presentiamo soltanto merlino e poi c'è la sorella eccola qui punilla che combinano nella terra questi qui che macello va bene ma tanto noi quando devono partire in adozione li laviamo e arrivano lavati puliti profumati nel frattempo facciamo tutta la profilassima fatta bene con vaccini di qualità che paghiamo avete visto quanto è diverso dalle sorelle perché sono meticci e non conosciamo nemmeno i genitori quindi possiamo dirvi ben poco della loro taglia futura non ce lo chiedete per favore ecco adottatelo solo perché è carino e simpatico un amore di cucciolo un amore bellissimo merlino non fatelo crescere ha già due vaccini può già venire a casa gliene manca uno l'ultimo i primi di settembre noi glielo faremo senza problemi se rimane con noi se invece viene prima da voi ma è difficile che ciò avvenga perché c'è una procedura da seguire la farete voi il vaccino a proposito velocemente qual è la procedura voi ci chiamate per adottare un nostro cane noi vi inviamo un questionario conoscitivo però fate una cosa per favore quando chiamate quando ci scrivete non fate soltanto la domanda è disponibile merlino piuttosto che un altro cane diteci qualcosa pure su di voi ogni tanto su come è composta la vostra famiglia da dove ci chiamate è importante sapere da dove ci chiamate la vostra esperienza con i cani è importante sapere se avete mai avuto cani o se questo sarebbe il vostro primo cane per favore non siate avari di informazioni anche perché poi vi mandiamo il questionario che è molto dettagliato e nel questionario trovate anche informazioni su come funziona l'adozione ecco qua poi che succede noi riceviamo il questionario ci facciamo un'idea dell'adozione dopodiché chiamiamo una volontaria della vostra zona di un'associazione animalista della vostra zona che su appuntamento telefonico viene a conoscervi concorderete giorno e ora lei verrà visiterà il posto dove starà il cane parlerà con voi sonderà bene la vostra motivazione vi guarderà negli occhi perché non si può fare un affido basato soltanto su una telefonata assolutamente no ci vuole la conoscenza diretta dove te ne vai merlino se per la volontaria ci sono i presupposti per una buona adozione noi vi mandiamo merlino e chiunque voi vogliate vi daremo anche dei consigli sulla scelta del cane perché molte volte voi la fate solo basata sull'estetica noi vi facciamo riflettere su tante cose ebbene fate un pensierino per questo monellino bellissimo buona fortuna merlino secondo me si sono innamorati già in tanti di te ciao piccolino monellino monello monello monello